Adesso vorrei un attimo spostare l'attenzione su un topic più specifico, provando a fare anche un parallelismo tra le opere di Adamic e le tue di Simona, concentrandomi un attimo sul territorio. Il territorio per te e per i libri che hai scritto è comunque un filo rosso che lega tutte le tue opere, da partire da fila di una vestaglia blu per arrivare appunto se tornano le rane nel mezzo, Mugello sottosopra, la terra, in particolare il Mugello rimane sempre un elemento cardine, principale nelle tue opere, da cui poi si snodano le storie, il Mugello e i suoi cambiamenti. Dall'altra parte invece abbiamo Adamic, quindi una persona migrante che va a lavorare in un territorio a lui sconosciuto, in cui si ritrova con altre persone migranti, mi vengono appunto in mente gli wobblies, sindacalisti rivoluzionari itineranti e quindi mi chiedo appunto come può essere vissuto il territorio o come nella percezione di Simona e di Adamic viene interpretato? Sì, io sono cresciuta in un viale in questo paese che si chiama viale del lavoro e già la toponomastica ha segnato abbastanza la mia vita di bambina, di ragazzina e di figlia di operai e allo stesso tempo ha segnato nel passaggio, perché io vivo nel Mugello e sapete bene, conoscendo tutta la viabilità italiana, tutte le sciagure nell'autostrada che avvenivano fra Barberino e Roncobilaccio, cioè il tratto autostradale peggiore d'Italia perché sono sempre stata in un territorio di passaggio e anche in un territorio molto sfruttato, quindi la condizione non solo di classe, di figlia di operaia, di marginalità di vivere sull'Appennino, ma anche quella di un territorio veniva sempre e continuamente messo a servizio o della grande città, quindi di Firenze e della Piana o diciamo della viabilità italiana, per cui lo sguardo doppio si è posato gioco forza per la condizione di vita e sociale e mi sono interessata molto dei lavori delle grandi opere a partire dall'alta velocità nel Mugello, la variante di Valico, prima ancora l'invaso di Bilancino che era l'opera idraulica dopo le alluvioni di Firenze, quindi potete immaginare quel puntino minuscolo che è un paese sull'Appennino diventava uno sguardo, un osservatorio sul mondo e sul cambiamento e anche sullo sfruttamento dell'ambiente, che ho guardato gli occhi da figlia d'operaia e oggi posso dire l'attenzione diciamo sull'ambiente, sul mondo del lavoro è molto più unito di quando l'ho iniziato a guardare io, soprattutto a partire dagli anni universitari di attenzione e di ricerca perché mi ero messa a fare questa tesi sui lavoratori dell'alta velocità impegnati nella costruzione dell'opera nel Mugello e io li vedevo entrambi come facce dello stesso sfruttamento, sia i lavoratori impegnati in quei cantieri che il Mugello che veniva completamente dissanguato di acqua in seguito alle grandi opere e a questi fori che l'attraversavano. Quindi l'idea di vederli insieme, per me è sempre stata l'idea di vederli insieme, non contrapposti e invece mi rendevo conto anche girando l'Italia raccontando dei lavoratori dell'alta velocità anche andando spesso in parti d'Italia dove vivevano le stesse condizioni, penso alla Val di Susa, penso a tante realtà di sfruttamento dell'ambiente, si contrapponevano sempre, cioè o difendevi l'ambiente e quindi non prendevi in considerazione i lavoratori perché erano quelli che azionavano la ruspa e ti distruggevano tutto o prendevi in considerazione i lavoratori ma allora non potevi stare dalla parte dell'ambiente perché se difendevi loro difendevi un popolo e spesso veniva, un popolo lavorativo e spesso veniva dal sud Italia, sfruttato e non avevano lavoro e dovevano inseguire le grandi opere e quindi ricercarne sempre di più, quindi più grandi opere voleva dire per loro meno sfruttamento ma dall'altro lato vivevi quell'altro ricatto. Ecco, tenerli insieme non è stato mai facile però devo dire che ad oggi ho una nuova sensibilità legata all'ambiente, legata anche al clima, ne possiamo parlare in maniera molto più tranquilla o me faccio dello stesso sfruttamento, in realtà prima era o ti occupi di territorio, di ambiente o ti occupi di lavoro, non c'era verso tenerli insieme. Io ho provato faticosamente a scriverne e a far vedere gli elementi di sfruttamento di entrambi e cercare anche di farli dialogare in un dialogo che non è sempre stato facile perché parlare di minatori moderni, che poi sono minatori moderni coloro che vanno a scavare le gallerie, sono trasfertisti e quindi spesso non hanno neanche una capacità di radicarsi nei luoghi dove vanno perché non era il vecchio operaio della Fiat, si trasferiva a Torino e lì incontrava una nuova comunità, un nuovo circo, una nuova vita, loro sono sempre dei senza radici a giro per il mondo, inseguendo le grandi opere, inseguendo la lavorazione, quindi si parla anche di una popolazione operaia ben distinta da molte altre e quindi con proprie esigenze, con proprie difficoltà, anche proprie malattie rispetto a tante altre e allo stesso tempo però tenere insieme le falde e la perdita. In più c'è anche delle comunità che dialogano perché questi lavoratori che arrivano si devono stanziare anche se per poco tempo ma dialogare con poi le comunità locali dei vari posti. Ecco il racconto può cercare di unirli anche in questo senso perché li fa conoscere rispettivamente e si portano dietro le storie di sofferenza del sud con quelle magari del Mugello o con quelle di altre realtà. Non sempre, infatti il capitale sa bene come dividerli, vengono sottratti, divisi e nascosti. I lavoratori delle grandi opere spesso stanno in campi base, completamente isolati dal resto del contesto, diciamo in piccoli stalletti dove loro diventano solo forze operaie ma in realtà in quelle baracche loro ci vivono, continuano ad avere a che fare con le famiglie d'origine ma allo stesso tempo quelle baracche dove loro ci vivono non puoi andarle a trovare perché sono luogo di lavoro e quindi per te che arrivi da fuori non puoi andare a prenderci un caffè in un posto dove loro vivono temporaneamente ma in realtà diventa luogo di fabbrica quindi a te l'accesso è preluso. Insomma hanno una serie di caratteristiche che li rende distanti da quello. Ecco, provare a infrangere anche quei luoghi diventa un modo di far dialogare più territori, più realtà lavorative e anche più ferite. Prima accennavo, poi credo di essermi interrotto al fatto che originariamente Idemic intendeva raccontare uno solo degli episodi che poi sono parte di questo libro ed era l'attentato di Namitardo che nel 1910 distrugge l'edificio del Los Angeles Times, il quotidiano più grosso di Los Angeles, proprietà fondamentalmente dei più grossi padroni di quella città e simbolo dello sfruttamento. Quell'attentato avviene per mano di due sindacalisti dell'American Federation of Labor e segna il passaggio di una parte del sindacalismo tradizionale americano al gangsterismo o comunque alla collusione con i racket. Dico questo perché Los Angeles era stata la città di Adamic in quegli anni e lui ne fece delle descrizioni veramente fantastiche anche in altri libri, in altri lavori. Il territorio però di Dynamite è l'immaginario, non è un territorio geografico perché Dynamite è una raccolta di storie che inizia negli anni 1830, proprio i primordi delle primissime forme puramente embrionali di organizzazione sindacale negli Stati Uniti e arriva appunto a un secolo dopo. Dynamite è già stato tradotto in italiano, esiste un'edizione del 1977, perché abbiamo deciso di ritradurlo? Abbiamo deciso di ritradurlo prima di tutto perché quell'edizione era incompleta, mancavano dei capitoli. In secondo luogo non diceva nulla su chi avesse scritto quel libro, dava delle informazioni un po' vaghe e anche sbagliate, però la sorpresa è stato che io ho trovato quel libro, quando ho scoperto che esisteva, ormai una quindicina d'anni fa, ho iniziato a trovare quel libro negli scaffali delle librerie personali di molti compagni che avevano fatto le lotte degli anni 70 qui in Italia, in particolare dei compagni che venivano dall'area di potere operaio prima e dell'autonomia operaia poi. diversi di questi compagni erano padovani o veneziani, tra parentesi, lo dico perché qualcuno in sala forse si ricorda. Era un classico trovare Dynamite di Luis Adamic nelle librerie personali di queste persone e in particolare dei compagni di quell'area politica dei movimenti, sarebbe stato molto difficile trovare Dynamite negli scaffali di un militante convinto del partito comunista degli anni 70, non era roba sua, non faceva parte del suo immaginario e se leggerete il libro ve ne renderete conto subito perché Dynamite, prima ho parlato di Dynamite come una sorta di lontano precursore, non vorrei esagerare, non c'è niente di profetico né altro che sia chiaro, però Adamic in un qualche modo vive sulla sua pelle un tipo di precarietà e un tipo di trasformazione del lavoro e di segmentazione del lavoro tra lavoro professionale classico e passaggio alla fabbrica taylorista e fordista che in quegli anni è in pieno svolgimento che fa sì che lui fotografi una realtà che è per chi poi si è interessato appunto dell'evoluzione dei modelli produttivi, capitalistici eccetera, segna effettivamente un passaggio fondamentale che è molto più vicino al nostro presente di quanto potremmo immaginare, la precarietà che Adamic descrive soprattutto nei capitoli che riguardano i Wublis, gli Industrial Workers of the World, gli IWW, che è il sindacato per il quale si capisce che lui parteggia di fatto, anche se lui ha dei toni a volte anche molto autocritici verso la classe operaia, non la esalta mai in termini elogiativi, non ne fa mai l'elegia eccetera, ma piuttosto la descrive anche nei suoi limiti, anche nei modi sbagliati di porsi nel rapporto con i leader, nel fatto di credere in certi momenti a dei leader che poi si riveleranno dei truffatori, oppure del fatto di adottare delle forme di lotta che poi si rivelano assolutamente fallimentari eccetera e questo dà anche un gusto maggiore alla lettura, ve lo anticipo questo aspetto, ma soprattutto ha la capacità di descrivere la realtà di un sindacato che fu assolutamente innovativo e di cui abbiamo bisogno ancora oggi. A me è capitato di ragionare dei Wublis, degli IWW con persone che, guarda caso, oggi stanno nelle lotte della logistica, con persone che oggi si pongono il problema su quale possa essere la forma organizzativa del lavoro nel momento in cui il lavoro diventa quella roba assolutamente complessa, segmentata, frammentata, atomizzata eccetera che Simona, meglio di tanti altri, conosce qui oggi. Gli IWW avevano, ebbero molti meriti, ebbero i meriti ad esempio di tenere assieme, parlavi di territorio, gli IWW riuscirono nel picco della loro ascesa immediatamente prima della prima guerra mondiale, e sarà proprio sulla guerra che loro finiranno per essere schiacciati, per il fatto di non aver appoggiato con uno spirito internazionalista profondo, di non aver appoggiato l'intervento americano nella prima guerra mondiale, però immediatamente prima loro terranno insieme i lavoratori precari e migranti, ma migranti anche interni dei boschi dello stato di Washington nel nord ovest degli Stati Uniti, con i lavoratori delle acciaierie dell'est degli Stati Uniti, quindi riusciranno a tessere una rete intorno a una forma organizzativa assolutamente leggera, nel senso che gli Woblis erano realtà assolutamente auto-organizzate, le chiameremo oggi, erano realtà che più che avere delle sedi burocratiche istituzionali aprivano degli spazi sociali che erano delle librerie e via dicendo, soprattutto i Woblis costruivano immaginario. C'è un libro bellissimo edito da Shake Edizioni, ormai ha qualche anno però vale sempre la pena, curato da Bruno Cartosio che si chiama proprio Wobli, è un libro in italiano che vi consiglio assolutamente di leggere, l'ultima parte, l'ultima sezione di quel libro contiene degli estratti dal canzoniere degli IWW, il canzoniere degli IWW era una raccolta di canzoni che erano state composte da alcuni, Joe Hill è il più famoso, lo conoscerete per la canzone di Bruce Springsteen che dice Joe Hill ain't dead, Joe Hill non è morto, Joe Hill venne giustiziato, condannato a morte per aver organizzato uno sciopero, ma Joe Hill era un emigrante svedese che negli Stati Uniti prima di tutto mise a disposizione dei suoi compagni di lavoro e di lotte il fatto di essere un compositore, di essere un musicista. Gli Woblis ebbero questa grande intuizione assolutamente attuale di costruire un immaginario culturale intorno alle lotte che producevano e quindi di costruire anche una capacità di riconnessione tra soggetti che provenivano da tutto il mondo. Dico solo un'ultima cosa, considerate che durante lo sciopero delle setterie di Patterson in New Jersey, gli Wobli organizzavano delle assemblee in cui l'assemblea si teneva in 14 lingue diverse, cioè riuscivano a tenere delle assemblee in cui i lavoratori erano disposti in modo tale da avere ognuno un interprete per ogni gruppo linguistico e riuscire a capirsi tra 14 nazionalità diverse. Io credo sia assolutamente attuale rileggere storie di questo tipo perché danno la misura anche del fatto di come la storia non è che si ripete ma la storia comunque ci torna sempre utile anche nel presente.